Paolo Rachini inizia una nuova esperienza dopo Francavilla, questa chiamata quasi improvvisa a Pineto, dopo la sconfitta di ieri la società ha provveduto a questo avvicendamento in panchina, intanto con quale spirito e come è arrivato questo contatto? C'è stato un contatto con Roberto, ovviamente loro non erano contenti di come stavano andando le cose e quindi mi ha detto se ero pronto, ovviamente ho risposto di sì con molto piacere e con molto entusiasmo, io sono pronto in questi due mesi, anzi sono stato lì a soffrire perché ovviamente stare senza squadra non fa piacere, però è arrivata una chiamata importante da una società ambiziosa e quindi ringrazio il presidente Brocco e il direttore Gianmarino che mi hanno dato questa possibilità. Cosa sai di questa squadra e cosa non va a uno sguardo un po' esterno? Io ho visto il Pineto due o tre volte quest'anno, secondo me è una squadra con tanta qualità, però in queste partite che ho visto forse ha giocato un po' sotto ritmo, non imponendo il proprio gioco che poi alla fine per i giocatori calo poteva farlo, però poi le problematiche ci saranno state, per me Pifani ha fatto un ottimo lavoro perché è un allenatore preparato e mi dispiace per come sono andate le cose, però ripeto è una squadra che non si è espressa ancora ai suoi livelli, è una squadra che si è espressa secondo me al 30% delle sue possibilità, quindi secondo me ci sono le basi per fare bene. L'ultima cosa ha chiesto la società nelle persone di Brocco e del DG Giammarino a Paolo Rachini? Il presidente di Brocco è ambizioso, vuole fare bene, quindi è normale che la posizione attuale di classifica non è bellissima, vuole recuperare, il tempo per recuperare c'è, i giocatori ci sono, la squadra c'è, adesso tocca a me dimostrare con il lavoro di far crescere questa squadra. E la Coppa può essere un test per preparare poi la squadra alle prossime gare di campionato? Assolutamente sì, il Pineto tiene anche la Coppa, quindi dopo domani avremo un test importante, cercheremo di fare il massimo anche lì, perché poi quando si vince e si abita a vincere anche in Coppa è bello, e quindi è di buon auspicio anche per il campionato.